Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, torniamo nella serie con solo un blocco, anche se ormai di solo un blocco non c'è più nulla Mark ha esattamente 23 blocchi, io ho esattamente 23 anguria e questo è esattamente il ventitresimo video di questa serie, giusto? È il secondo, Steph! Magari fosse il ventitresimo È il secondo ma può arrivare anche il terzo, quindi 2, 3, 23 Ecco, ecco, aveva ragione lui Allora, abbiamo fatto un pochino di cose tra un episodio e l'altro Prima di tutto un po' di decinti per gli animali, altro che non faceva più a sopportarli stando tranquilli così Una mini casettina molto semplice, semplice, è il recinto degli orsi polari Che però invece che essere di neve è di clay, cosa un po' triste, diciamocelo È neve sporca Questo abbiamo No, in realtà ce l'abbiamo, la neve, mia cara fere E vabbè, però qui avevi già iniziato la casetta, ho continuato a espandere questa, perché mi sembrava l'idea migliore C'è una volta Occhio, occhio, gli orsi, gli orsi, si mangiano le volpi Vieni qua Buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù Ragazzi, ma cosa sta succedendo mentre No, ragazzi, è un dramma il pioma della neve, in pratica Quando tu fai comparire un orso, si mangiano le volpi Per quello li abbiamo messi qui dentro, Steph Infatti, guarda questa volpe come è spaventata Povera Tappa il buco, tappa il buco Guardate che carina adesso Dai, Steph, ma stai pensando davvero a fare questo? Bene, gli orsi polari hanno bisogno di vivere nel loro habitat Eh, però poi si mangiano le volpi Già nella vita reale li facciamo scegliere i ghiacci, i poverini nuotano tutto il tempo Vieni, Steph Vuoi farli vivere male anche qui? Ok Oh, ragazzi, è un disastro Ci sono le volpi che cercano di mangiare i conigli Io vi devo dire, è un dramma con questi animali Continuano a comparire animali che si mangiano tra di loro Non si sopportano vicenda E non so che farci Allora E perché gli altri sono tutti quanti messi via Se no sarebbe ancora peggio tra un po' Eh, infatti Facciamo così Mamma mia che bella base per gli orsetti Allora vado a cucinarmi un pollo che sto morendo di fame Perché l'orso mi ha attaccato Oh, finalmente un upgrade Mamma mia Mamma mia, ragazzi Allora, Marci ha fatto quasi mille blocchi Io, come potete vedere, ne ho fatto 392 Ma Marci era tipo a 600 barra 700 E io era a zero Quindi abbiamo fatto una cosa come 700 blocchi per fare il nuovo upgrade È una follia Marci è a 967 blocchi per la precisione Quasi a mille Sì, sì È tanto Porca miseria Guardate che bella la base degli orsipalari Sta diventando carinissima Uh, che bello Belli questi blocchi Questi sono belli Con questi ci facciamo un sacco di belle cose nell'isola Ragazzi, bioma Non bioma Però oceano Tema oceano Oceano vuol dire che spawneranno i guardian Ve lo dico, eh Ma non c'è problema Prepariamoci allora Non c'è problema Abbiamo una spada indietro a testa E poi se è oceano magari spawno anche il Po Bello Hai ragione Tema Po Stef Tema Po Tema Po Ma il Po è un fiume Non è un oceano No, c'è il Poceano Il Po è tutto E c'è anche il Poceano E c'è anche il Poceano Perché quando l'acqua evapora Abbiamo il Poceano Abbiamo il Poceano Opla al Po Tipoc Ecco Two players che forma Opla Ormai, raga È diventato troppo È troppo È troppo È troppo per tutti È troppo per tutti Allora Chi ha fatto queste casse separate? Marco Può essere capito Io Però non so male Devo essere sincero Ci sta Sono anche storte l'una con l'altra Giusto per dare forse dei Bisognerebbe metterle magari dentro casa Visto che stiamo iniziando a costruire la casetta A me sembrano delle critiche pesanti però No, era un consiglio Una tartaruga No Diamo un nome a questa tartaruga Di Marco Tartaruga Portuga Non so che è stato peggio tra noi Io non ho parole Sono abbastanza allibito Però va bene Allora Stanno anche crescendo gli alberi Quindi io mi sa che mi faccio un'accetta Vediamo se trovi i materiali Eh li prendiamo Così finiamo anche la casa Il mio lavoro è finire l'abitate degli orsipolari Allora La faccia di ferro va Ci sta No no ma guarda Mi hanno ringraziato Che bello che avevamo Un blocco di grass E sta diventando tutto verde Anziché marrone Molto bello Sì finalmente Finalmente infatti Un po' più vivibile Allora cari orsipolari Non cadetevi prego Ok Siete grandi e grossi Mi raccomando Io ti sto osservando Io c'ho una paura che muoiono Che non hai idea Allora vai più avanti Se li fai casca a tutti Stef Che ci ho messo una vita A portarli lì dentro No ti prego Stef Ti prego Ti supplico No 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 Sono felicissimi Stef Nabbo ce la fa Stef Nabbo ce la fa Ma cosa Stef Nabbo Stef campioncino Campioncinesco al massimo Stef Nabbo è stato un po' pesante Ma la terza ruga che va alla neve Sei un po' confusa te Eh no perché ha tirato degli orsipolari Capisco che non ci sia la sabbia in giro Però così non va proprio bene Occhio che magari si mangiano pure la tartaruga Che quelli là sono i matti Non so come funziona Ma ho paura Potenzialmente vero Ho paura Potenzialmente potrebbe accadere Allora Io vorrei anche dell'acqua Anch'io non credo Ma non si sta mai Si mangiavano le volpi Quindi Allora Piantiamo un altro berch qua Abbiamo tanti sapling Quindi comunque Io non so La state combinando ragazzi Niente È meglio che non lo soffiate Vediamo un pochino Ok Abbiamo un po' Un po' Di blocchi Per fare la casa un po' più bella Ma come più bella Tenete qua Tenete qua E poi iniziamo a usare blocchi strani No Allora Uno Ok Allora iniziamo a usare la prismarine Perché li lanci nel tuo blocco magnifico Caro Marci Perché tu sei Steph Datemi a me la prismarine Che io sono innamorato Della prismarine Faccio io Addio a tutti Ok Vabbè Vuole lui fare No la squid Lo sapete che gli piace costruire Addio squid Allora Voi siete felici E quindi questo lavoro Allora possiamo iniziare A piantare delle bacche Anche le volpi di neve mangiano le bacche Penso di sì dai Però faremo mettere mezzo Perché poi ci pungiamo Eh le voglio mettere tipo Guarda qui Che lì di solito non ci passi Ma no Ma facciamo una zona Anche per fare un racconto Eh Steph Non abbiamo fatto neanche la zona per noi Per i nostri semini Figurati per le bacche Eh appunto Facciamo tutto no Vai Allora Ma qualcuno ha blocchi di berce Eh beh Anche io sto cercando un po' di legna Allora io ne ho 15 non trasformati Così poi te li fai come vuoi Ok Ma se li vuoi usare anche puri Non lo so Non fa danno di giorno Ok Ok è tranquillo Di giorno è rilassato Allora Trasformiamo tutta questa legna Trasformo tutta questa legna E poi faccio così E faccio così Poi faccio così Faccio così Faccio così Faccio così Ma cosa vuoi da me? Stessa cosa facciamo con questo Ok perfetto Allora Fere Quindi creiamo una zona Per fare la zona zonesca? Eh il problema Però è che non abbiamo la Cioè abbiamo l'acqua Ma la volevamo usare per fare No perché tanto abbiamo anche blocchi di ghiaccio Siamo tranquilli con l'acqua Ah ok perfetto Che dici da questa parte Fere? Sì Ok Allora Com'è che si chiama Stef? Scusami la zona? La zona zonesca Però aspetta Stef Come stai iniziando? Non inizierai a fare cose tutte storte Vabbè sto facendo una stradina Ma perché devi fare una stradina? Attaccati qui La fai qui La continuazione Ma no ma facciamo un po' le cose separate No non mi piacciono questi ponti Stef Fere? Questi ponti? Eh perché poi inizi a fare tutte cose strane Fere siamo già per litigare? Sì Ragazzi siamo per litigare Sì Sì la persona peggiore per costruire Quindi lascia perdere Aia Questo è stato un attacco basso Vabbè ditemi che non è vero Ogni cosa che fa fa schifo Un pesce rosso È morto È morto Beh come nella realtà Più o meno è la durata che Che hanno i pesci rosso Ma non è vero Allora Ah sta continuando Mica la smessa Cosa vuoi? Sto facendo la zona agricoltura Dove? Dove stai andando? Qua E perché sta continuando ad essere di legno? Perché poi ci metto la dirt sopra Così puoi mettere l'acqua No solo slab E quindi? Quindi fluttua E quindi? Vabbè Raga lasciamolo perdere Vorrei che fosse come su Fornet Ovvero che se rompo un pezzo di legno Cascate il guarda Se fossimo come su Fornet Se avessi già stata paunata Mia cara Fede Certo Ragazzi però questi insulti gratuiti No questo non è Questa era una constatazione È diverso da un insulto Amichevoli Cioè Beh no Amichevoli o meno dipende da quanto ti interessa Allora io distruggo sto ponte Fede Fede Ci possiamo chillare qua Io te lo dico Fede ti butto giù Guarda che bello Fede Vabbè Eh Tieni Marco Tieni 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 Che crescano gli alberi purtroppo Eh di birch non ce l'abbiamo Aspetta Fer ci penso io Abbiamo il bone meal Bravo Stef Uno E Due Vai Sfede Vai d'altro Vai Sì 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 Ma Stef è proprio efficiente ragazzi E ve ne faccio crescere uno anche qua Mamma mia Allora io ne pianto subito un altro Perché così Andiamo spediti Perché altro mi sa che abbiamo un po' poca dirt Sì 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 confermo Abbiamo poca dirt Ah no Ce ne abbiamo 55 Come non detto Ma Stef Quanti blocchi sono sopra di me Quanti blocchi sono sopra di te Guarda che se premi i tab E te li puoi leggere da solo Tieni Marco Tieni Marco 1222 Grazie Beh dai Non è male Ok 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 Che dice hai rivalutato sta zona No non ti guardo più Stef Sennò poi mi dicono che ti critico troppo No perché hai mai dato del tab Ok Perché se lo guardi tutto il tempo Adesso ce l'ho Ci sono fissato col tab Me lo immaginavo Diamanti Guardian Bello C'è un guardian Eh Buttalo giù Bravo Devo farmi assolutamente una spada Perché stanno iniziando a sparare Molto strani Vuoi fare tre diamanti Eh sì Non sarebbe male Allora Te li metto nella cesta qua Quella la super cesta Il blocco di ghiaccio Ok Perfetto E lo spaffiamo Ok Vado dentro casa Visto che ce l'abbiamo pure qua Allora E letti neanche per sbaglio Vero ma abbiamo ancora una pecora noi No era stata uccisa dal lupo Era stata mangiata dal lupo Sì Quindi non è più comparsa una pecora Siamo senza pecora Continuiamo a non poter dormire Finché non abbiamo l'ala No Fermi Aiuto raga È un po' più problematico È gigante Buttatela giù Buttatela giù Aiuto che paura Ho sentito Ho sentito Barchi gridare Vicino C'era questa cosa gigantesca Ovvio a dire Io ricordo che qualcuno Disse che non sponavano persone cattive No ma è andato bene Ma infatti non era cattivo Non dovevamo uccidere Era molto buono Infatti ragazzi Infatti non mi aspettavo Mi è arrivato un pezzo di berce Non so se che ti serve Allora Fatemi capire un attimo Se noi facciamo A E poi B fa B E C fa C E gli fa D No Proprietà commutativa devi fare Esatto Esattamente quella volevo fare Abbiamo del carbone Sì È troppo No il delfino No il delfino Vabbè Abbiamo fatto un pesce È buono Abbiamo fatto un pesce Mi mangio il pesce Vabbè Non abbiamo acqua Scusate Non sperchiamo nulla No È quello il problema È che non abbiamo acqua Ho cresciuto l'altro berce Ottimo Mangio una mela Non è cresciuto L'ho fatto crescere Anche questo Eh sì Il mio potere è immenso Ma quante ne hai di buon mio Scusami È ancora 17 Il mio potere è immenso 23 angurie E 17 di buon mio Allora Allora Penso di doverle dare a Mark Tieni altri 7 Grazie Dato che la casa ancora non è finita Perfetto Allora un po' di luce qua Su Vabbè A me ne abbiamo un po' di torce Allora Vediamo un pochino Piazziamo una qua Fede non usi la mia zona di agricoltura? No è orribile Vabbè però la puoi usare Guarda Poi perché questi blocchi Stanno fluttuando qui? Quali? Questi Ebbè perché Quello è per non far cadere l'acqua Dai Steph Perché devi fare ste robe? Io non sto vedendo la ragazza E quindi farla E per andare più in basso Ferre dovevo fare dell'acqua Cioè sei pazza? No Bastava mettere un blocco di terra E poi piano piano ci costruivi sotto Che problema c'è? No non è Fortnite questo Dai Steph Se tu la stai complicando Più di quello che è necessario L'unico modo Se non hai blocchi più in basso Di dove siamo L'unico modo È mettere l'acqua E villare sotto Ferre Non si può in altro modo E non avevamo acqua da spercare Capisci? Ragazzi ho fatto la casa Venite a giudicarla Bella A me piace molto Fammi vedere Bella bella Brava Bella bella Un po' oceanica Sì 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 Vabbè ci sta Almeno sfruttiamo blocchi un po' colorati Che se no era tutta bianchia Posso farmi notare un'altra cosa? Dovete sistemare le ceste Allora Pensate al Po Ok Qual è la divinità del Po? Silenzio Il Po esce? No Il Poeta No Il Poeta Dai che ci siete quasi Il Po È Steph La divinità del Po È Steph Sei tu No Poseidone Oh no Ragazzi datemi un letto Io non parlo più Aspettate un attimo Ragazzi Non so perché Prefigo la versione del Poeta Ragazza No Mark Non lo fare Ragazzi Cosa c'è di male? Io non lo so Porto più Ragazzi Ho fatto una coltivazione Che fa schifo Non so far nulla Mi dai miei oggetti Ferre per favore Sì li ho lasciati qui Speri di fare un sacco di cose Nella vita Allora ragazzi Io butto giù la sua coltivazione La rifaccio Ferre ti distruggo Oh ok Ferre ti anniento Dai fai altro Steph Ti spolverizzo Mark che voto dai A questa coltivazione È pesante questa Io mi sono messo lì Ho fatto una casa clamorosamente bella Guarda L'espressione della perfezione Che voto dai? Adesso prendiamo una persona esterna Ho capito Perché manca questo gradino Vai ora Ah cavolo 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 Questo è proprio da pro Da nuva pro In un salto hai fatto No 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 Complimenti No 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 E c'è andato Allora facciamo così E poi perché non vedi tutto il grano attorno È ovvio che adesso ci metto un po' di grano E inizia a piacerti molto di più E lo capisco Sì sì È una questione di mente Perché tu magari non te lo immagini Tutto bello coltivato Steph ti ho detto fai altro Sistema le ceste Guarda Quello lo puoi fare Sistema le ceste Non faccio una cosa così noiosa Sì Steph Fai quello Che forse è l'unica cosa che puoi fare Le userò su fere Allora Ti piace Ma non mi sono uscito in uno ceste Sì 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 Le userò su fere Ma non finisce più questo livello comunque Di blocchi particolari Raga ma non ne abbiamo semini alla fine No ancora non ne sono usciti Cioè ma neanche seeds abbiamo Abbiamo le carote però Steph Una Se non ricordo male abbiamo anche Ma se io faccio così Esatto I semi di zucca ragazzi Ok È vero Semini di zucca Poi Zero Comunque questo è un altro blocco di grass Quindi lo Dai sta qua Piazzalo di qua Fere di qua Che c'è Fere Stai facendo un casino Qua Sto cercando seeds Non è che così poi si sprede anche dall'altro lato Così almeno riusciamo a riempire tutto Dai sta diventando più carino Poi vediamo un pochino Un solo semino però Un semino può bastare nella vita Per portare la vita nel mondo Sto facendo così Olè Mi sono emozionato dopo questo Sto facendo il giardino di fronte casa Chi? Non finisce più questo livello Ok No ma è interminabile In effetti si è infinito Mi sono resa contone che siamo da vent'anni in questo Incredibile Aiuto Sto facendo la danza del Del grano Se faccio così cresci più in fretta Hai ragione Non è vero Ah così guarda che bella anche la casa Vedi? Ce l'hai fatta vedi? No ci mancava un'altra tartaruga ragazzi Povera tartaruga Lasciala lì in pace Ok allora La zona grano sta migliorando La zona casa è la più bella di tutte le zone Chi si occupa di sistemare la zona della coltivazione ragazzi? Chi si occupa di sistemare le ceste volevi dire Fere Io se volete posso fare le casse Dato che comunque è abbastanza noioso Nessuno lo vuole fare Però comunque non deve sistemare la zona della coltivazione Perché è terribile ragazzi Ma non è vero Potete dirle che non è terribile Grazie Qualcuno lo sta ancora ascoltando a Stef Giusto per chiedere Non so da che lato schierarmi questa volta ragazzi Mi spiace Allora vediamo che cassa abbiamo qua Io non l'ascolto più Io Sinceramente Io penso Ma perché devo fare le cose con Fere? Che poi siamo pieni di casse strane Le posso usare lo stesso? No Ma credi sì secondo me Perché abbiamo tipo le snow chest Sì 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 le posso usare Ma secondo me si offensano se le usi No perché così facciamo tutta una bella farete di casse Ci può stare vero Allora facciamo così Perfetto Così la metto qua? Allora adesso sono sicuro che siete convinti anche voi Che è tutto molto carino Allora qui mettiamo la legna Bellissimo Stef Bellissimo Io non me la sento di guardare Devo arrivare a 1600 blocchi Bello bello Quello si è drogato di blocchi Molto bene Allora facciamo così Qui mettiamo i sapling E tutte le cose Perfetto Di questo tipo Così Ah signor guardian C'è lì i marci E deve disturbare me Io comunque mi sento poco rispettato Allora io qui vi metto tutta la legna Allora come me la posso gestire? Perché poi se no fermi critica Potrei fare gli spigoletti degli dei Qualcuno ha del cibo Alvo si sa ascoltare Stef Eh lo vorrei anch'io Marco Allora io lì sto mettendo tutti gli alberelli E il cibo che sto trovando Perché al momento sto sistemando tutto Io sto coltivando in modo tale Da portare del cibo Ma qua ricevo solo critiche Quindi non lo so Allora vediamo Ma mi dai il grano In posto di sentirti attaccato personalmente Signorino Comunque penso che non siano 500 blocchi Stef davvero Ma secondo me sono di più Non lo so io sono già più di 500 Allora qui metto tutti i blocchi particolari Che stiamo trovando Quindi anche tutti quelli di Prismarine Perché alla fine gli devo dedicare Per forza una casta Che se no non so dove metterli Dai il grano Non è ooooh Ma come fai a non averlo Cosa stai coltivando l'aria Eh beh Più o meno Dai ragazzi Tu ne hai il grano Quanto ne hai Ma come faccio ad avermi Ti ho visto che me ne hai rubato Ne hai almeno uno Allora io adesso vado a fare la mia coltivazione Ne ho almeno uno No campione Marco Basta Campione Marco falla di nascosto Falla di nascosto Sì sì basta Cioè vuole andare in concorrenza con Stef Ma guarda Ci metto due secondi a vincere sulle costruzioni No 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 Ho bisogno di slab di questo colore Ehm ragazzi è finita per qualcuno Con qualcuno non sono io ma per l'altro Io mezzo cuore Vediamo se troviamo del cibo Non ho bisogno di una carota Non mi serve una carota Allora facciamo così Io vorrei vedere per un altro upgrade Signor Marci Cioè mi sembra che qua oggi stai lavorando poco Poco? Ho fatto mille blocchi Ho fatto mille blocchi Ho fatto mille blocchi Ho fatto mille blocchi E tu che stai facendo Stef Scusami La zona coltivazione Scusami Sì certo finta Ma vieni a vedere che belli gli angolini che ho fatto No stai sto facendo altro dai Io ho quasi finito il terzo piccone Vi dico proprio questo Io vi dico soltanto che Mark Quando è venuto qua a vedere questa roba qua Si è messo a piangere Allora qui sopra cosa mettiamo? Facciamo tutta la pietra Tutte le cose che hanno a che fare con la pietra Ma perché non posso mai mettere le torce come vorrei Quanto qua mettiamo questo C'è qualcuno il bonnil Dovrebbe averne Stef Sì ma ne ho solo sei Nelle chest ce n'è Nelle chest ce n'è Mark No è finito Allora facciamo Cioè hanno sprecato tutto E' quello il problema Allora l'importante è continuare a piantare Anche se io continuo a dire Che questo mondo è particolarmente lento Cioè senza pommie Andiamo alla velocità della morte Oh no non era del tutto pronto Allora questa la prendo io E la mettiamo qua 8 semini da piantare Bene Facciamo così Facciamo così Facciamo così Questo lo posso anche buttare Allora io posso fare due panini Io Io non lo voglio Mi suicido piuttosto qua Adesso E anche se come è meglio che ti suicidi Lo sai Dai Lo si è buttato giù da solo Perfetto Buon viaggio Buon viaggio a tutti Due paninetti ce li abbiamo Poi mi ha avanzato giusto una slab Ma secondo me è molto carina stagione Io non ho capito perché l'avete criticata Secondamente Marco Sottoli dovrebbe rifarla Poi non so voi Vedete Un pochino voi Anche qua vedere Una roba del genere slab La sugar cane È che non ce l'ho mai dato La sabbia era quando esistiamo No la sabbia Secondo me quando Ma infatti nella roba del mare Ah no sai perché non dà la sabbia? Perché è talmente veloce Che va nel vuoto Ah Ok E vabbè però prima o poi ce la dovrà dare Cavolo Oh livello livello Finalmente Finalmente Questa sarà il prossimo 500 blocchi esattimo Il prossimo vai Chi dovina vince Il prossimo Nether Il Nether Troppo presto per il Nether Troppo presto Cosa c'è dopo Secondo me potrebbe essere La zona della palude Nether Potrebbe in effetti Nether 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 Possiamo andare avanti per 15 secondi a dire Nether 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 Oh cavolo Nether Sei nether Cinque nether Quattro nether Tre nether Un nether Un nether Jungle dungeon Quindi giungla Bello 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 bel tema Dai Bello E' molto bravo E' molto bravo E' molto bravo E' molto bravo Lo sto guardando Sì 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 Guarda 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 Ho trovato anche dell'oro Bello 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 Forte Sei soddisfatto Ma quanta roba c'è da sistemare ancora Tantissima È sistemare Perché io mi scarico Sta diventando tutto di grasse Perché è molto bello E quindi voglio fare un applauso Grazie Poi abbiamo la zona degli orsi polari Bellissimo Un po' di animaletti messi qua Una coltivazione che è la più bella mai creata Una casetta passabile Passabile? Dai è molto carino Non rompere Diciamo le cose come stanno Allora qui mettiamo gli utensili Guarda L'unico incredibile in questa squadra E' il minatore Che è venuto Grazie Grazie mille No stavo guardando l'inventario Era FKF minatore Comunque io direi ragazzi Ci fermiamo anche per questo video Io sinceramente pensavo fosse un buon episodio inizialmente In realtà è diventata un regno Una serie Sì sì Un pappagallo Mio Bellissimo Non abbiamo No non andartene Posso ucciderlo? Sei folle Ma è già morto? E' lei in fondo Ma come è già morto? Non può essere morto Scusate No sta esplorando Vieni qui Sta per diventare cibo per Sì L'hai preso? Sì Bello No No Raga che sta succedendo? Torni qui È andato No 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 Lui sta a volare Lui sta a volare Dai campioncino Sopravvivi per noi B ce la fa Ce la fa Dai Antonio veloce Io l'ho tamato Se mi sposto mi segue No è sotto adesso No Steph Adesso muore Vieni qua Vieni qua Vieni qua sulla snow Papagallino Lo possiamo chiamare Antonietto? Eccolo Perché? Vieni bellissimo Raga ma io lo posso prendere sulla spalla No? Sì Eh ma non riesco È strano Farla avvicinare il più possibile Se la fai a volare un po' più in alto Oh No No Steph 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 Vieni qui Sono proprio uguale È proprio uguale la padrone No 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 Il pillager no però Non mi sembra esagerato Eh ragazzi È finita No Siamo morti Siamo morti Ci sono in giro il Kivex Ok C'è il totem Ragazzi un casino Mi non vuole che stava finito il video eh Già Sì esatto Vieni qui pappagallino No mi avete rubato tutti i tools Eh vabbè Marci Poi Già Guardatemi che bello che sono Ragazzi Io ho cercato Il totem dell'Andrea Sei bello ma siamo un po' in difficoltà Guarda che bello Lo so è molto bello Uguale a quello di Roblox poi Bellissimo Ecco Ce l'abbiamo fatta? No Mi sentiato il totem ragazzi Mamma mia C'ho ancora in mezzo Ma aspetta È andato dentro i blocchi Vabbè sta troppo in alto Io sto pretendendo il pappagallino Forza che ce la fate Oh Io mi sono chiuso dentro Comunque ci fermiamo così Mentre Marci combatte Mentre Marci muoce Oh In casa no eh L'educazione prima di tutto E che ci voleva Ok Mi pareva esagerato Salta con un paio di altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao